Buonasera a tutti e tutte, ben ritrovati a un nuovo panel di Obiettivo 5, il nostro titolo è Old Single Ladies, lavoro, maternità ed intorni. Siamo qui con Rossella Canevari, scrittrice, la sua ultima pubblicazione è La Bambina del Freddo. Sono molto contenta di essere qui oggi, ho seguito tutti i panel oggi. Grazie a Valeria, alle contemporanee, è stata veramente una giornata piena di ispirazioni. Prima di rispondere alla tua domanda, tra l'altro non conoscevo nessuna delle donne presenti, delle relatrici, ma il mio libro è proprio a tema, esattamente con i vostri discorsi, con quello che state dicendo. Ovviamente la mia è una fiction, un'opera di fantasia, un romanzo, mentre voi avete portato dati alla mano, eccetera. Però è veramente ficcante con il tema, non è un caso secondo me che ci siamo conosciute, che siamo tutte qua. Una brevissima introduzione, dunque ultimamente sentiamo molto parlare di la necessità di un modello di sviluppo, di un modello di sviluppo che abbia, che ponga l'essere umano al centro, non solo dalle ONG, le associazioni, io tra l'altro vengo da un'esperienza di due anni in Croce Rossa, dove appunto il focus della Croce Rossa è l'essere umano al centro, ma non solo nel terzo settore, ma nella stampa, televisione, nella società in cui viviamo. E sentirlo dire in questi giorni con una guerra così vicina è sicuramente un... fa impressione. una guerra in cui stiamo vedendo le donne come vittime, purtroppo, le donne ucraine, donne però estremamente resilienti che ci insegnano anche la resilienza appunto e la lotta per la difesa della famiglia, la protezione dei bambini, imbracciano le armi. Le donne ucraine però di cui si parla tanto in questo momento, purtroppo sono sul campo ma non sono nelle stanze dei bottoni di questa guerra. Oggi in tutti i panel ho sentito, ripeto, tantissime donne di grande talento, di grande competenza e il filo rouge era appunto questo. Le donne purtroppo non sono o sono forse troppo, anzi sicuramente troppo poco nelle stanze dei bottoni, in tutti i campi, in tutti i settori. Perché? La risposta sempre oggi è stata data da tantissimi panel, perché le donne, noi donne nasciamo in un sistema e veniamo immesse in un sistema che è un sistema pensato da maschi per i maschi. E ci è difficile purtroppo riuscire a essere liberi, a imporre le nostre decisioni, a imporre la nostra volontà. Ritornando alla necessità di un sistema che ponga al centro l'essere umano, sicuramente va ripensato, come dicevate voi, va ripensato tutto il sistema e questo va fatto a partire dalla famiglia, certamente. La famiglia tradizionale, io penso che non si possa non essere d'accordo, ipocrisia a parte, è ormai un sistema fallimentare. Fallimentare non funziona, le politiche sociali non sono sufficienti, non ci sono gli asili nido, i congedi parentali, si parla di conciliare vita privata e vita lavorativa, è una cosa che ancora è impossibile. Le donne entrano nel mondo del lavoro, cercano di fare, fanno carriera, lo fanno anche, ma al primo figlio purtroppo molte donne. Diciamo che sarebbe più facile se di pari passo alle donne che entrano nel mercato del lavoro avessimo uomini che di pari passo si prendono più cura delle persone con cui sono in relazione. Esatto, però la famiglia tradizionale appunto è il luogo dove iniziare questo cambiamento. Tornando adesso alla domanda e al mio libro e al ruolo della scrittura per quanto riguarda questo cambiamento in atto, dunque la scrittura secondo me ha un ruolo importante nel senso che attinge dalla realtà, sicuramente attinge dalle esperienze che ci circondano, ma ha anche un ruolo visionario, ha la possibilità di raccontare delle storie e di avere una visione, di utilizzare la fantasia. Questo infatti io, in barba alle materie, alle STEM, sono sicuramente una di quelle donne che ha preferito sempre il lato umanistico, ho studiato appunto liceo classico, amo la letteratura, ma appunto è un ruolo importante quello, la visione che può dare la fantasia e che può dare la creatività in questo campo è importante. La protagonista del mio libro infatti è una donna di 45 anni che ha sicuramente all'apice della sua carriera, ha avuto grande successo, è caporedattrice di un quotidiano milanese di medie dimensioni, sinceramente non ne conosco tante, di donne direttrici di giornali, ma lei lo è, e a 45 anni decide di avere un figlio attraverso una tecnica di inseminazione artificiale, attraverso l'inseminazione eterologa, quindi padre sconosciuto. Decide di farlo dopo dieci anni di un matrimonio fallimentare e in piena libertà e maturità, quindi decide di avere un figlio. Non posso entrare troppo nei dettagli perché il libro... No, non spoileriamo, invitiamo a leggere piuttosto. Perché è un thriller, ho scelto tra l'altro di scrivere un thriller e quindi di inserire anche un elemento di mistero nella trama, ovvero, questi non sono spoiler, inizia proprio così il libro, la protagonista Emma rimane incinta e ha superato il terzo mese, finalmente quando potrà dirlo, lo sanno solamente tre persone, due suoi migliori amici e il medico che l'ha seguita, praticamente inizia a ricevere lettere dalla bambina che porta in grembo. Quindi lettere firmate da questa bambina che le parla e quindi entrerà per lei un momento di panico, nel senso che si chiederà chi mi scrive queste lettere, nessuno può saperlo, addirittura magari è veramente mia figlia, qualcosa di soprannaturale, perderà un po' la testa. Però, per chiudere appunto, senza entrare in troppi dettagli, la scelta di questa donna di 45 anni è una scelta matura, è una scelta di, a seguito appunto di un percorso fallimentare, attraverso questa gravidanza e attraverso anche queste lettere, compirà un processo di introspezione profondo e di, si chiederà la sua identità qual è, inizierà a entrare in profondità proprio, rivivere la sua storia e attraverso questo scoprirà e creerà un nuovo tipo di famiglia, un nuovo nucleo familiare non convenzionale, ripeto non posso entrare troppo, non posso dire troppo, ma è quello che auspico nel senso... Esatto, forse possiamo pensare di chiudere rilanciando sul fatto che alla fine siamo noi le protagoniste della nostra storia e che avere la possibilità di fare scelte consapevoli e quindi di autodeterminarci e forse l'augurio che oggi possiamo fare a tutte le donne e possibilmente anche agli uomini. No, no, infatti ed è fondamentale comunque, è importante per noi comprenderci e autodeterminarci e chiudo dicendo è importante comunque che non rimanga una cosa tra donne, ma che è per questo che ho scritto un thriller, perché venga letto dagli uomini, perché comunque venga condiviso questo pensiero. li contagiamo un po' di autodeterminazione e consapevolezza. Grazie di essere state con noi, grazie di averci seguito, lasciamo all'ultimo panel le sedie. Grazie.